...dello svolgimento dell'audizione dei rappresentanti dell'Alleanza Cooperativa Italiana nell'ambito della discussione del disegno di legge numero 236, sull'introduzione del profilo professionale dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione nei ruoli del personale scolastico. Comunico che per lo svolgimento delle audizioni è stata chiesta la pubblicità dei lavori con l'attivazione dell'impianto audiovisivo sul canale satellitare e sulla web tv. Sono presenti per l'Alleanza Cooperativa Italiana e Vincenzo De Bernardo, direttore Cooperative Feder Solidarietà, Eleonora Vanni, presidente Lega Coop Sociali, Marco Livieri, AGC Impresse Sociali, intervento della rappresentanza dell'Aci. Allora, chi interviene? Chi inizia per primo? Ah, un po' per uno. Bene, quindi chi inizia? Il dottor De Bernardo? Io. Lei? Allora, bene. Eleonora Vanni. Buongiorno e grazie appunto per questa opportunità su un tema che appunto ci sta particolarmente a cuore vista la nostra significativa presenza nell'ambito dei servizi delle persone con disabilità. io faccio solo una velocissima inquadramento, insomma, di tipo più generale e lascio poi ai colleghi gli interventi che entreranno nel merito e poi inviamo anche la documentazione. Sì, ok. Quindi un'introduzione sul senso per noi, soprattutto di questo tipo di interventi. Noi abbiamo appunto una presenza importante e significativa con personale, con anche differenti qualifiche proprio in relazione al percorso anche evolutivo delle persone con disabilità, anche solo negli anni del percorso scolastico. L'affidamento all'ente territoriale da parte della previsione della legge 104, con l'affidamento all'ente territoriale comune di questa attività, risponde in maniera significativa al tema dell'integrazione e della vicinanza ha un bisogno che non è solo un bisogno di sostegno nell'ambito strettamente scolastico ma è in qualche modo un tema di integrazione, di adesione più complessiva poi al progetto di vita che accompagna il percorso delle persone con disabilità anche nell'ambito, a partire appunto dall'ambito scolastico. In effetti le attività che noi facciamo vanno proprio in questa direzione con personale anche, come dicevo, con differenti qualifiche. Allora, questa proposta si inserisce anche in un momento molto particolare, più ampio dove la legge delega sulle persone con disabilità di recente approvazione poi prevede anche la definizione del progetto di vita individualizzato, personalizzato e partecipato. Allora, vorrei sottolineare quest'idea, noi stiamo anche presidiando quel tavolo di lavoro con il Ministero, presso il Ministero della Disabilità e quindi questo tema della partecipazione è un tema che dove vuole andare? Vuole andare nella direzione della maggiore appropriatezza e rispondenza ai bisogni della persona con disabilità, della famiglia, del contesto. E quindi io credo che dividere, suddividere con interventi parcellizzati di professionisti differenti, non tenendo conto invece del modello che ha comunque bisogno di una, almeno di una linea guida per essere uniformato. Noi siamo di fronte a un sistema che chiaramente poi prevede l'intervento delle regioni. Però, ecco, individualizzare e parcellizzare gli interventi sul modello, diciamo così, di stile sanitario va proprio contro all'idea del progetto di vita in questo senso. Quindi, da questo punto di vista, due cose, poi lascio velocemente la parola. Quella proprio di fare attenzione alla, noi abbiamo sempre parlato di interventi che tengano in considerazione complessivamente la persona e quindi a lasciare fuori poi dalla risposta al bisogno tutta una serie anche di problematiche alle quali non si risponde solo semplicemente, fra virgolette, con la messa a disposizione di un professionista e di un'assistenza specializzata come quella dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, ma dove in realtà questo professionista deve saper fare un lavoro di insieme. Quindi, ecco, secondo noi è importante avere ben presente anche il contesto complessivo e soprattutto la complessità del bisogno di queste persone. Lascio ai colleghi di entrare nel merito. Grazie. Sì, grazie. Interviene. Come si chiude? Ecco, io cerco... De Bernardo, buongiorno. Cerco di essere abbastanza veloce e schematico. Allora, l'obiettivo è un obiettivo ovviamente a cui tutti teniamo, che è quello in qualche modo di integrare al massimo le persone, i bimbi, le bimbe che hanno delle difficoltà. Ma come funziona oggi il sistema? Oggi il sistema funziona con una pluralità di soggetti, perché c'è una fase, un lavoro che si ha nelle scuole, una fase, un lavoro che si ha nelle case delle persone, una fase ed un lavoro che riguarda gli operatori ed un'altra fase che riguarda le famiglie delle persone che hanno queste difficoltà, che rivendicano, e poi dopo magari ci sarà un ulteriore approfondimento, una libertà di scelta. E quindi c'è una complessità. È come se uno volesse in qualche modo internalizzare una fase di un processo produttivo metalmeccanico, piuttosto che, pensando di assumere un certo numero di operai, ad esempio fare le auto. Non funziona così, perché c'è una fabbrica nel territorio, che è una fabbrica che ha competenze, che ha una finalità di interesse generale, che attraverso un'integrazione e la sussidiarietà riesce a costruire dei servizi complessi e di incerchiare queste persone, questi minori che hanno delle difficoltà. Che cosa produce come valore, come economia di contesto? Intanto la velocità della risposta. C'è una velocità nella risposta che, ad esempio, non c'è per i docenti di sostegno, dove, questo è uno schema che ricalca un po' i docenti di sostegno, dove noi vediamo che ci sono delle classi che anche per un mese, un mese e mezzo, non hanno una risposta, e dove magari ci sono delle grandissime differenze territoriali, dove dei docenti di sostegno devono gestire 10, 15 bimbi o bimbe. Quindi, noi invece, attraverso questo, noi tutti, quindi welfare territoriale, ricordo che c'è una delega, perché welfare è, diciamo, territoriale, è una delega ai comuni, c'è un pivò che programma, che coprogramma nei territori e si danno delle risposte con tutti gli operatori locali. Ciò produce tempestività nelle risposte, selezione adeguata, capacità di scegliere quelle competenze rispetto alle esigenze specifiche dei bimbi o delle bimbe, che sono diverse di anno in anno, e poiché questa è una domanda molto complessa, non siamo nemmeno capaci di poter decidere nel medio-lungo periodo quali sono le figure, quali sono le competenze da internalizzare, perché magari ti viene fuori una classe, un conto è lavorare con le persone che hanno problemi di vista, altro conto è avere competenze e rispondere sulla questione, diciamo, del linguaggio, altre ancora. Quindi la domanda è variabile, intermittente, non determinabile. E poi c'è un livello anche di velocità nella risposta di far turnare un pochino le competenze del territorio rispetto alla necessità di garantire la piena autonomia di queste persone che deve essere accompagnata nel corso del tempo. Esistono poi dei problemi. Intanto io ricordo che la quota di servizi del PIL pro capite territoriale rivolta ai servizi sociali è dello 0,8%, a differenza della media europea dell'1,4%. Noi stiamo sotto la media europea in termini di investimento in servizi sociali, servizi che non risarciscono chi ha un problema, ma che inducono i soggetti ad evolvere. Quindi noi stiamo sotto la media. Quindi non è il risparmio o l'internalizzazione che ci aiuta. Noi dovremmo fare un ragionamento di valorizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e attraverso anche tutto il tema dell'autonomia differenziata garantire un minimo nazionale in tutti i territori. E quindi il tema è, magari, più che lavorare sugli effetti, lavorare sulle cause. E quindi immaginarci un qualche provvedimento che consenta di garantire un minimo necessario a tutti. E qui entro sugli strumenti. La riforma del codice degli appalti, ottima riforma che avete costruito e che ci soddisfa, garantisce anche la possibilità di valorizzare i contratti prevalenti delle rappresentanze comparativamente più rappresentative attraverso l'Istat con delle procedure e con degli indicatori. Nei sistemi di accreditamento non c'è il sottoinquadramento delle persone. Il sottoinquadramento delle persone c'è laddove la pubblica amministrazione o non può o non riesce a garantire un flusso finanziario, un flusso economico adeguato ai servizi. Se si applicasse il codice degli appalti rispetto a quanto voi stessi avete organizzato, probabilmente anche quei fenomeni di dumping contrattuale sarebbero ridotti all'omicino. Per quanto riguarda noi, poi noi abbiamo un contratto collettivo nazionale abbastanza rappresentativo perché occupa 350.000 persone, è in fase di rinnovo contrattuale, abbiamo fatto un lavoro di valorizzazione della qualità appunto dei servizi sociali, probabilmente il tema non è internalizzare una fase di un processo ma continuare nell'integrazione dei servizi. Al netto di un conflitto istituzionale che c'è, perché questa è una norma difficilmente esigibile sul piano costituzionale, ricordo che solo nel 2001 siamo riusciti a finanziare con 100 milioni queste attività, mi pare un po' pochino se si pensa poi dopo di poter assumere 70-80 mila persone e poi chi li coordina, come si coordinano i livelli territoriali con livello nazionale, i conflitti di competenze, cioè ci sembra che lo spirito, diciamo la sensibilità al tema ce l'abbiamo tutti e quindi siamo pronti a collaborare, forse dovremmo un pochino lavorare insieme per trovare delle risposte più adeguate e che tutelino non solo i bimbi ma le famiglie di questi bimbi, che mi pare anche loro siano abbastanza contrarie. Grazie. Buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno senatrici e senatori, grazie per l'occasione di poter respirare il nostro punto di vista e io continuando il discorso che hanno fatto i miei colleghi volevo scendere un pochino più nel merito. Oggi stiamo trattando una materia proprio perché tale figura, quello dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione è diventata una figura centrale a scuola per l'integrazione e l'inserimento dei bambini disabili. Perché è diventata una figura fondamentale a scuola? Spesso più richiesta dalle famiglie e dell'insegnante di sostegno, perché si è riuscito a creare anche se con differenti modalità nel territorio nazionale una figura che rispondesse alle esigenze dirette del bambino e questo grazie alla possibilità che tale figura venga concordata sul territorio. Nell'attivazione del servizio in quasi tutti quanti i casi c'è un confronto tra la cooperativa che gestisce il servizio, la scuola, la famiglia e si individua la figura con le caratteristiche professionali più idonea a seguire il bambino che viene attivata immediatamente. Questo è un punto di forza fondamentale perché le disabilità presenti sono tantissime e ovviamente le professionalità e le capacità per poterle gestire sono differenti. Pensiamo che già facendo un sondaggio fra le varie regioni ci si vede come il percorso formativo professionale e le diverse qualifiche che vengono previste sono differenti fra loro. però perché si va a costruire sul territorio le necessità di quel territorio. Andare a smontare questo aspetto riportando come è stato segnalato il servizio probabilmente molto simile a quello degli insegnanti di sostegno si rischia di perdere uno dei punti centrali che ha fatto diventare il servizio un elemento centrale e un elemento divanto della nostra scuola in Europa perché sappiamo benissimo che l'assistente all'autonomia della comunicazione c'è solo in Italia e spesso vengono dall'estero a verificare come riusciamo a inserire questa figura che svolge un'attività importante di integrazione. Come ha detto il mio collega un altro aspetto importante che va tenuto in considerazione è l'attività costante di coordinamento sostituzione e gestione del bambino durante l'anno scolastico sappiamo che ci sono tante attivazioni durante l'anno non solo all'inizio e sappiamo benissimo come in altri sistemi per esempio quello degli insegnanti di sostegno che faranno un paragone tale attivazione avviene in ritardo avviene con un numero di ore non calate sulla realtà specifica ma generalizzate con una figura che in quel momento è disponibile in gradatoria andando a perdere quel senso di individualità che è il piano individuale sul bambino che è l'elemento centrale per cui questa figura nasce. Al contrario potenziando e uniformando l'intervento sul territorio nazionale attraverso una delega forte e comuni con uniformità dell'intervento si raggiungerebbe l'obiettivo quello che è prioritario dell'integrazione e dell'inserimento in quella classe di quel bambino nel suo percorso di studi. Grazie. Grazie. Ci sono interventi dei senatori? La senatrice Bucalo. Grazie Presidente sarà molto breve ho ascoltato con molto interesse gli interventi. intanto mi soffermo sul progetto sanitario qui stiamo parlando invece di un progetto curriculare dell'alunno con disabilità all'interno della classe poi mi soffermo molto su quello che è la velocità di risposta beh io dico non ho bisogno assolutamente di dare in questo momento e oggi dei numeri lo faremo poi con le altre audizioni però questa velocità di risposta Presidente non c'è assolutamente molte province soprattutto del sud ancora fino a dicembre credo anche i primi di gennaio non avevano iniziato il servizio di assistenza al il servizio a questi ragazzini con disabilità ma non solo sono aumentati soprattutto le famiglie che ricorrono ai tribunali per vedersi garantito questo diritto che è un diritto sacrosanto previsto dalla legge 104 per i propri figli per cui io credo che l'80% delle famiglie invece non sia assolutamente contrario almeno io ho questi dati ma non solo li possiamo portare poi alla fine delle audizioni altro punto che voglio dire la proposta di DL non vuole assolutamente anzi è chiaro fino adesso tutti gli interventi fatti la netta separazione che c'è tra la figura dell'assistente alla comunicazione che non bisogna assolutamente metterla a paragone con quella del docente di sostegno sono due percorsi distinti ed è bene chiarire non c'è assolutamente nessun passaggio nel DDL che ci porta a pensare che le due figure si sovrappongano o si uniscono tra di loro sono due percorsi distinti per cui niente ecco questi sono i tre punti che non condivido negli interventi che ho ascoltato e la ringrazio grazie senatrice Bucalo chiedo di intervenire la senatrice dell'IA grazie presidente mi scuso per essere arrivata in un lieve spero ritardo perché ho sentito solo una parte del primo intervento e penso che le cose che sono state portate oggi sono molto interessanti e degne di riflessione credo che partiamo tutti dall'idea e questo lo dico veramente al di là delle differenze di voler garantire pienamente il diritto allo studio e l'inserimento dei ragazzi e delle ragazze e delle bambine e delle bambine con disabilità il punto è se questa cosa viene risolta conosciamo anche le difficoltà io sono stata amministratrice locale in un municipio di Roma sul sociale quindi mi sono trovata a fronteggiare le famiglie che richiedevano più ore in un municipio molto ricco il più ricco di Roma quindi i ricorsi ai tribunali erano proprio una cosa famiglie molto competenti da questo punto di vista però il punto è qual è lo strumento migliore per rispondere alle domande e alle necessità di inserimento e di sostegno appunto che è un sostegno di diritto allo studio e sociale esattamente perché non stiamo parlando degli insegnanti di sostegno ma stiamo parlando degli IC che nel mio comune ormai si chiamano EPA cioè degli assistenti alla comunicazione io continuo a pensare però su questo è un percorso aperto che sia una questione di piano sociale e che quindi noi dobbiamo rafforzare la capacità degli enti locali che su questo appunto hanno una competenza di intervenire a sostegno di questo aspetto sapendo che con tutte le difficoltà le esternalizzazioni comunque il terzo settore in questi anni cioè quindi io non voglio cioè non penso che qualche volta c'è stata una delega eccessiva soprattutto nella capacità poi degli enti locali di tenere in mano diciamo di governare davvero però in questo rapporto col terzo settore spesso noi riusciamo a garantire un'armonia tra assistenza domiciliare assistenza nella scuola cioè sono anche figure che spesso sono anche come dire di mediazione o anche di continuità rispetto all'assistenza che viene fornita alle bambine ai bambini quindi io credo che noi dobbiamo non a caso lo stiamo vedendo insieme come commissione decima e commissione settima dobbiamo sapere che stiamo in un punto di confine tra diritto allo studio e piano sociale e capacità appunto dell'ente locale di offrire assistenza e supporto sociale e di inclusione alle bambine e ai bambini io continuo a pensare che noi dobbiamo rendere più forte questa capacità progettuale del territorio in sinergia con l'autonomia scolastica e quindi dare più fondi ai comuni e rafforzare quello che i comuni fanno su questo grazie grazie il senatore Magni grazie è un tema molto delicato nel senso che avendo anche diciamo in famiglia un po' conosco la situazione avendo una figlia che ha fatto un certo tipo di lavoro oggi fa la coordinatrice di una comunità di disabili quindi la disabilità è un problema molto complicato e partiamo da un dato intanto non può esserci cioè non può essere la sostituzione degli insegnanti di sostegno semmai questa cosa spetta è necessario che diciamo lo Stato nel suo complesso garantisca che il sostegno inizi quando inizia la scuola invece molto spesso questa cosa non succede passano dei mesi detto questo ovviamente sappiamo tutti che la disabilità è diversa da un ragazzo down a un autistico a un spastico a una situazione cioè la diciamo la complessità e non penso che è un problema di comunicazione è un problema di collettivamente se siamo in grado cioè ci sono un pool di soggetti di soggetti che hanno delle esperienze questo è il dato fondamentale quindi come diceva prima la senatrice Delia cioè il problema è se c'è un piano di inserimento perché poi va il rapporto con la scuola se partiamo ovviamente dai bambini c'è un rapporto con come si dice la famiglia ma in particolare anche la società cosa fa la società per rendere diciamo poi nella far sì che queste queste persone diciamo questi abbiano un habitat in cui sono considerate persone come gli altri persone a tutti gli effetti come gli altri e quindi questo è il dato a me pare insomma ecco ci vogliono molti soggetti cioè ci vogliono tante specializzazioni ma che devono lavorare in collettivo che devono lavorare in equip e quindi questa è la cosa che bisogna bisogna prevedere di fare e per fare questo ci vogliono le risorse e qui non mi pare adesso non c'entra niente chi stiamo facendo audire però il dato è che senza risorse queste cose non si fanno molto spesso molto spesso i comuni io abito al nord però tenete presente una provincia in cui ha 300.000 abitanti con 84 comuni ecco voi pensate è il mio comune che ha 2500 abitanti cosa più fare se non in modo diciamo collettivo e di area altrimenti c'è tutto un lavoro che è diverso non è il comune come diceva prima la senatrice di Roma o il municipio di Roma che ha una certa risorsa il municipio di Roma è tutta la mia provincia sostanzialmente e quindi queste cose sono complicate quindi io sono perché è molto molto delicata la cosa però distinguerai intanto l'insegnante di sostegno a scuola e fare diciamo di più e vanno in questa direzione per quanto riguarda le altre figure lavorare in equipe difficilmente possono essere diciamo anche qui sì poi ci sono sistemi cooperativi cooperative che danno diciamo che fanno lavori distribuiti su più parti succede anche da noi c'è questa cosa però oggettivamente c'è un limite ve lo dico è molto legato a cosa fa la persona singola anziché il collettivo questo non c'è non funziona insomma io potrei magari a conoscete sono cooperative che hanno 600-700 dipendenti che lavorano ovviamente nella scuola e fuori nella società queste cose però molto spesso è il lavoro del singolo non esiste il collettivo che invece è il punto più fondamentale per inserire un soggetto che ha disabilità in una società che deve essere considerato una persona normale e che può dare tutte le sue capacità per quello che ha collega Mazzella grazie presidente allora noi stiamo facendo dei cicli di audizione come senatore per cercare di comprendere ancora di più meglio questa problematica soprattutto legata a questa nuova figura che dovrebbe entrare nella scuola quindi dovrebbe far parte a tutto titolo a tutto tondo del ministero dell'istruzione però sta emergendo anche l'altra parte l'altro risvolto della medaglia almeno da quello che ho ascoltato e mi interessa anche comprendere qual è la posizione vostra riguardo all'elemento che avete praticamente fatto emergere e cioè avete parlato di un finanziamento delle politiche sociali che è al di sotto della media europea ma di moltissimo siccome noi di finanziamento ne abbiamo parlato nel DEF nel documento di economia e finanza sembrerebbe che non ci siano spiragli ancora tutt'oggi per questa per finanziare in modo adeguato quindi in qualche modo dobbiamo capire qual è il motivo per cui giustamente anche la senatrice che ha scritto credo un disegno di legge che io ho letto e non mi sembra diciamo nell'impianto un disegno di legge da rifiutare completamente bisogna analizzarlo più approfonditamente come stiamo facendo e capire qual è l'interesse vero che abbiamo cioè di sostenere l'infanzia in un processo educativo e in un processo di inclusione sociale ora sono venuti anche i sindacati ci hanno detto no alcuni sindacati noi siamo d'accordo perché questo consentirebbe di in qualche modo di uniformare questo processo di apprendimento su tutto il territorio nazionale adesso sentiamo che c'è un problema però anche di LEP avete sollevato la questione dei livelli essenziali di prestazioni sociali che non sono uniformi su tutto il territorio quindi noi ci dobbiamo domandare al di là del disegno di legge che può essere anche condivisibile in un quadro complessivo ma poi i LEP oggi non ci sono riusciremo a farli ma soprattutto come li finanzieremo perché il tema del finanziamento vale tanto per sostenere le cooperative che potranno comunque occuparsi di inclusione di portare un progetto educativo individualizzato tanto per quanto riguarda anche la scuola e attenzione perché non è un problema che la scuola non dovrà avvertire comunque l'istruzione non dovrà avvertire cioè dico il ministero quindi da voi mi piacerebbe sentire cosa manca realmente per poter ottenere un livello di inclusione sociale in grado di poter garantire appunto il diritto alla scuola il diritto all'istruzione per tutti rimuovendo tutti gli ostacoli come ci dice l'articolo 3 della Costituzione rimuovendo tutti gli ostacoli non vorrei che poi l'ostacolo fosse diventasse un disegno di legge cioè dobbiamo fare in modo che il disegno di legge se c'è diventi qualcosa che faccia rimuova questi ostacoli a me sembra diciamo che in questo momento dalle discussioni e vorrei un chiarimento non ho capito se effettivamente lo rimuoverà oppure no ecco insomma nella mia posizione politica gravo e credo che se non ci sono altri interventi possiamo dare la parola per la prego 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 grazie presidente sarò breve anche perché non riprendo le cose che condivido che ha detto poco fa la senatrice Delia volevo solo sottolineare un aspetto che mi pare assente in questa discussione che è quello lavoristico nel senso che decidere di inquadrare nell'ordinamento della pubblica istruzione dei lavoratori vuol dire cambiare lo schema rispetto a quelli che sono invece oggi impegnati nelle politiche sociali e nel rapporto con le amministrazioni locali e io penso che bisogna fare molta attenzione a scombinare gli ordinamenti e le ragioni per cui si sta in un contratto nazionale con un certo ordinamento lavoristico piuttosto che un altro e che collocarci figure professionali del tutto differenti probabilmente non porterebbe neanche vantaggio a quei lavoratori e a quelle lavoratrici dal punto di vista della loro condizione pensiamo per esempio a queste specializzazioni al fatto che poi c'è un obbligo di esclusività ovviamente che la pubblica amministrazione richiede rispetto alle attività e al fatto che invece queste sono professioni che vivono nel rapporto con le persone e non nel rapporto con i luoghi cioè non vive in rapporto all'essere nella scuola ma vive in rapporto a quella condizione e quindi in tutte le situazioni che vengono vissute dal ragazzo o dalla ragazza che ha delle difficoltà allora da questo punto di vista credo che bisognerebbe fare attenzione mentre condivido quello che credo che sia lo spirito del disegno di legge e che è rafforzare una struttura sociale che oggi ha evidentemente un buon punto di riferimento nella legislazione ma una scarsa effettiva applicazione e quindi il bisogno di rafforzare le politiche sociali le risorse le strutture delle amministrazioni locali bene se non ci sono altri interventi ho chiuto ho chiuto ah collega ho chiuto prego prego sì grazie presidente io ho ascoltato con attenzione anche gli interventi dei soggetti auditi che in realtà diciamo da un punto di vista del principio hanno inserito un elemento importante cioè il progetto sociale poi da un punto di vista territoriale funziona meglio tanto più che oggi andiamo verso quest'idea di un'autonomia differenziata ancora più spinta quindi la legge quasi parrebbe in controtendenza con un orientamento diciamo che che riguarda l'organizzazione del progetto a livello locale che dà più garanzie perché a livello locale ci sono conoscenze maggiori ci sono rapporti anche più importanti con le famiglie diciamo con il tessuto sociale però da sindaco da ex sindaco devo dire che su alcuni aspetti credo che sia importante che ci sia un supporto da parte dello Stato io mi ricordo soprattutto io sono stato sindaco di un comune del sud Italia ma in tutto il centro sud ci sono comuni che molti di questi sono in disesto in predisesto che hanno delle difficoltà proprio e mi trovo davanti spesso dei genitori che chiedevano diciamo delle figure che non potevamo in qualche modo facevamo difficoltà a garantire quindi credo che questo disegno di legge vada in questa direzione fermo restante questo progetto sociale di cui parlava anche la senatrice dell'IA che va sicuramente imbiandato e avviato diciamo e portato avanti con tutti i soggetti che ci sono sul territorio insomma a parte gli enti territoriali ma credo che affiancare un supporto sicuro da parte dello Stato con alcune figure che vengono formate come questa l'assistente all'autonomia alla comunicazione che sono figure che ormai sono necessarie insieme accanto all'insegnante di sostegno che tutti quanti abbiamo ribadito che è una figura a sé stante penso che nel progetto sociale che parte dal territorio però queste figure si possono ben integrare quindi vedo che c'è una compresenza diciamo di obiettivi che può stare insieme grazie grazie allora prego per la replica sì dunque un paio di cose sicuramente la proposta il disegno di legge ha l'obiettivo appunto di andare incontro ai bisogni ai problemi e quindi non è che che c'è anzi è particolarmente io credo importante questo confronto proprio perché mette in luce una serie di difficoltà e non c'è un no una sola risposta complessivamente perché come abbiamo detto questo è un un tema un bisogno complesso che mette insieme i bambini e le bambine la famiglia la comunità la scuola il percorso evolutivo e io credo che non si può pensare di risolvere il problema di molte amministrazioni locali e di molti enti locali che non hanno risorse che sono in dissesto come diceva il senatore adesso che hanno tutta una serie di difficoltà pensando all'introduzione di una figura nuova e diversa nell'ambito della scuola rispetto a quelle relative appunto all'insegnamento e all'insegnante di sostegno con il quale assolutamente non si confonde non deve essere confusa questa figura noi abbiamo fatto dei riferimenti ma solo appunto rispetto ai termini organizzativi ma non certo perché una si può sostituire all'altra quindi c'è sicuramente un tema che è quello dei livelli essenziali delle prestazioni e però ce n'è un altro che è quello che quando si parla di un progetto di vita di un bambino di una bambina nel percorso evolutivo non si può pensare per singole prestazioni è necessario nel momento in cui si ragiona di inclusione più complessiva nel percorso scolastico pensarlo in maniera integrata tant'è che il progetto individualizzato è prevista una multidisciplinarietà per definire il progetto allora se è prevista una multidisciplinarietà è chiaro che servono interventi diversi però non si può pensare di sommare singole prestazioni per cui il tema dell'affidamento come dicevo come ho detto all'inizio alle amministrazioni locali va in quella logica lì cioè va nella logica dell'avvicinanza alle persone alle famiglie alle comunità ed è l'ente locale il soggetto allora io credo che non si possa pensare di risolvere il problema dell'ente locale semplicemente individuando un'altra figura e aggiungendo una prestazione perché l'obiettivo almeno secondo noi di qualità non è questo ma è quello di una progettazione multidimensionale che sia in grado di fare questo che dicevamo anche prima cioè di mettere insieme un processo un processo integrato è chiaro che le risorse le risorse sono sono fondamentali e devono e devono essere date l'ultima cosa ci sono appunto due livelli uno è quello della organizzazione del lavoro e come diceva il collega prima c'è una organizzazione in questa fase in questo momento no che prevede una equip interna al soggetto che eroga questi servizi con una formazione a carico del soggetto che eroga i servizi un lavoro di equip e quindi una modalità organizzativa di un certo tipo l'altro è quello di supportare il lavoro degli operatori appunto in una equip multidimensionale che definisce e man mano aggiorna il progetto di vita individuale quindi io credo che entra anche in gioco proprio una visione che è quella ai bisogni delle persone si risponde con una somma di singole prestazioni o si risponde con un progetto di vita partecipato e quindi c'è tutto il tema che diceva il collega della scelta della possibilità di individualizzare bene l'intervento e quindi anche di tutto il lavoro che viene fatto dai soggetti gestori di trovare il professionista adeguato per il bisogno della persona tenendo presente che i bisogni sono molti sono molto cambiati anche nel tempo al di là delle definizioni e così via e quindi sono cambiati anche i profili professionali e le competenze richieste e facciamo anche un lavoro per aggiornarli questi profili professionali per cui mi sembra che portare sulla scuola un profilo professionale che peraltro è una parte di tutti quelli necessari a rispondere al bisogno educativo più in generale sia appunto un ragionare per singole prestazioni mettendo in un contesto differente un operatore che ha proprio altre caratteristiche grazie ci sono state non vorrei aver creato confusioni per noi molto chiaro che le figure sono diverse il docente di sostegno con la figura che viene normata abbiamo fatto solo un esempio per dire che internalizzare una fase di un processo non è che risolve al 100% le problematiche rispetto alle risorse se è welfare non è welfare dei servizi sociali allora i dati pubblici vostri quindi che noi leggiamo sono questi il welfare cost ha 109,2 miliardi sono 508 miliardi che sono il ministero del lavoro INPS poi lo possiamo scorporare in sanità piuttosto che e 1,2 che è solo 0,6 dati contabilità pubblica qual è la quota di investimento non di spesa perché i soldi non vanno alle cooperative sociali i soldi vanno per servizi per le persone quindi qual è la quota di investimento dei servizi sociali quelli che non remunerano tra virgolette la sfiga scusatemi la brutalizzazione ma giusto per capire di questi 509,2 miliardi 10 miliardi l'anno quindi noi su 500,92 miliardi di welfare spendiamo investiamo in servizi di presa in carico delle persone 10 miliardi che sono lo 0,8% del PIB pro capite siamo l'ultimo paese europeo che ha questa spesa storica siamo il fanalino di coda dell'Europa la media europea è 1,4 la Germania spende 1,6 del PIB pro capite ma siamo anche il paese relazione fitto sui fondi europei che spende il 30% 35% dei fondi europei allora gestire questa complessità pensando di internalizzare 70 mila 70 mila persone secondo noi è un non sequitur cioè non si va da nessuna parte altro è organizzare e internalizzare ad esempio dei coordinamenti territoriali per esempio negli ambiti territoriali sociali si sta facendo un lavoro anche attraverso il cosiddetto PON inclusione per rafforzare diciamo le competenze legate alla programmazione alla coprogrammazione e alla costruzione dei servizi dei piani sociali ecco il PAC Sud PAC Sud 06 06 e spese anziane sul mezzogiorno perché non ha funzionato e abbiamo residui di spesa storici perché non c'è la capacità progettuale nelle amministrazioni locali allora non è che serve il soggetto che sta nella fase proprio lavorativa serve la programmazione e la capacità di programmare i servizi questo è per dire che i soldi ci sono i migliori casi sono ad oggi i casi di integrazione tra pubblico e privato sociale perché ricordiamoci che prima i diritti sociali non esistevano i diritti sociali sono nati l'esigibilità di questi diritti perché le famiglie delle persone con disabilità si sono messe insieme perché hanno sviluppato un po' di gratuità e anche un po' di lavoro e di impresa sociale e quindi il preambolo della norma non è che la causa sono le cooperative sociali è la conseguenza la conseguenza della difficoltà di gestire dei processi complessi a livello territoriale ripeto un conto è aggiungere dei pivot che stanno su che codino che costruiscono che ingegnerizzano che codificano dei processi altro conto è pensare di semplificare internalizzando delle competenze che poi magari fa due, tre, quattro anni si devono aggiornare e si devono formare e perché saranno cambiate le esigenze di quei bimbi e di quelle bimbi d'altronde sapete meglio di noi nell'APA anche sul livello nazionale se non ci fosse una quota di competenze esterne non si riuscirebbe a fare tutto quindi attenzione a giusta l'analisi giusta la voglia e la nostra voglia anche di contribuire a risolvere a rafforzare questa dando però attenzione alla ricetta alla soluzione questa a nostro avviso non è la soluzione giusta bisogna che trovarle e su questo insieme siamo disponibili a lavorare vorreste fare una battuta alla collega Versace sì grazie Presidente era soltanto una precisazione perché il tema ovviamente è sentito e si corre poi il rischio di divagare io non perderei invito tutti noi me per prima a non perdere di vista il punto lo Stato è già in difetto alla luce del fatto che c'è la legge 104 che impone allo Stato di prevedere questo tipo di servizi per le persone con disabilità per gli studenti con disabilità quindi non solo l'insegnante di sostegno che già è previsto anche l'assistente alla comunicazione lo dice la legge 104 quindi noi siamo già in difetto a monte perché demandare questo tipo di responsabilità agli enti locali è stato in qualche modo un modo per temporeggiare ha provocato anche forse in parte un risparmio ma in parte non ha garantito quella formazione adeguata che serve per questo tipo di ruolo quella continuità che meritano i ragazzi e che spesso non gli viene garantita quindi in realtà questa proposta di legge per quanto discutibile migliorabile sicuramente apre un dibattito però certamente vuole anche andare in quella direzione quindi io soprattutto inviterei i colleghi me stessa tutti quanti a non perdere di vista il focus c'è una cosa che si chiama legge 104 che impone allo Stato di prevedere entrambe le figure al momento il Ministero garantisce la figura dell'insegnante di sostegno che è appunto un insegnante lo dice la parola stessa è un docente e l'assistente alla comunicazione che è ovviamente un'altra cosa ecco volevo esatto esatto demanda ai comuni però in realtà la legge si ma alla luce no no ma io intendo no collega però io voglio dire è chiaro come è emerso come è emerso gli enti locali non sono spesso nelle condizioni di poter garantire questo tipo di servizio si affidano a delle cooperative il problema è delle cooperative guardi collega durante le audizioni precedenti che non so se lei ha avuto modo di assistere o meno è emerso in più di un'occasione il fatto che molte cooperative e per carità ce ne sono alcune che sono assolutamente sì ma molte cooperative comunque di fatto non garantiscono la formazione e la continuità oltre al fatto che c'è una questione pure di budget comunque siccome lo diceva la legge 104 volevo dare questo come dire questa precisazione a supporto dei colleghi ho chiuso grazie come battuta prima di chiudere tante cose nel G 104 sono inattuate diciamo che sono attuate solo quelle che producono un beneficio finanziario per il beneficiario non a caso chiudiamola bene chiudiamo no no non ho detto esocoperativo bene grazie e alla prossima occasione di risentirci grazie 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 grazie